a tutti ben trovati una perturbazione a costa da nord all'arco delle alpi richiamando davanti a sé aria leggermente umida che poi va a densarsi sulle regioni terreniche ma vedete il grosso della nuvolosità viene stoppato dalla nostra catena di montagne e rimane sui versanti esteri questo e quanto risulta dall'immagine satellitare riferita alle euro centrali di venerdì primo marzo mettendo in sequenza il quadro euro atlante che si nota proprio che il letto di transito delle perturbazioni corre al di là delle alpi pilotato dal flusso perturbato dell'oceano che sembra avere trovato un nuovo stato di equilibrio con l'anticiclone spartendosi con esso in parti uguali l'emisfero questo genera una ritrovata piovosità sull'europa centrale settentrionale mentre l'area mediterranea soffrirà nei prossimi giorni di un certo deficit pluviometrico deficit che per quanto riguarda l'italia si conferma sulle nostre regioni settentrionali e centrali terreniche dove la situazione attenzione si fa seria su queste zone infatti da troppo tempo non piove non nevica in maniera decente e probabilmente non lo farà neanche la prossima settimana pur se transiteranno alcuni annuvolamenti e qualche pioggia potrà aversi ma comunque di poco conto se pioverà con il contagocci le temperature si manterranno su valori al di sopra della media questo non solo al nord ma su tutta l'italia anzi nel corso della prossima settimana al centro e al sud si avranno a notevole impennata si imposterà un regime climatico certamente avanti di un mese rispetto al normale andamento stagionale comunque nella giornata di sabato 2 marzo la coda della perturbazione che abbiamo visto addossarsi alle alpe si porterà sul medio versante adriatico e sulle regioni meridionali dove pertanto avremo annuvolamenti anche qualche precipitazione nevosa in montagna a partire da 1200 metri su queste zone ma anche in sardegna avremo un rinforzo del vento di maestrale che manterrà per la giornata le temperature in linea con i valori medi del periodo sul resto dell'italia abbastanza soleggiato ma con un transito di stratificazione di velature ad alta quota nel corso della giornata da prima sulle regioni settentrionali poi anche al centro ma comunque senza conseguenze domenica 3 marzo in prevalenza soleggiato con nuove velature in transito al nord nel corso del pomeriggio qualche nube bassa da segnalare tra la liguria e le regioni tirreniche per rientro di aria leggermente umida dal mare le temperature sono stazionali lunedì 4 marzo la coda di una nuova perturbazione porta un po' di nuvolosità sulle nostre regioni centrosettentrionali e potremo avere anche alcune precipitazioni che si potranno però sviluppare soprattutto a ridosso dei settori montuosi alpi pre alpi e anche a ridosso delle levante libri tempo soleggiato e ulteriormente mite al sud infine la tendenza per martedì 5 che comunque da confermare che ci presenta nuvolamenti sparsi in transito un po su tutta l'italia più compatti lungo le regioni tirreniche dove si potrà avere anche qualche pioggia occasionale le temperature sono al di sopra della media su tutta l'italia bene con questo abbiamo terminato grazie per la cortesa attenzione a tutti voi un cordiale saluto buon weekend e risentirci da luca angelini grazie grazie grazie